E qui finisce la partita, il Pescara torna in serie, il Pescara torna in serie, e questa è la soccosta, scateniamo subito Manuele Pagliottini a porto a campo, la sensazione è caldo, è festa grande, è festa grande per il Pescara, Manuele, si, si c'è Otto che è calmato a portare, senza cose, ha detto prima di un'intervista, prima di qualsiasi cosa, un'immagine straordinaria questa qui, seguirvi dalla vostra città. Io vorrei fare la canzone con loro, che bello è, quando esco di casa, per andare allo stadio, a vedere Pescara, grazie a Pasquato, anche in versione canterino. Sì, avete visto anche il primo piano di Zampano, tra l'altro a curiosità i due fratelli gemelli Zampano, entrambi promossi in serie A, uno con il protone, adesso tocca anche a Francesco con il Pescara. Parlava di Pasquato quello che accadrà a Pescara, allora la squadra rientrerà stasera con il volo charter in nottata, e lo stadio Adriatico sarà aperto esattamente come... ... 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